Prima di tutto, una questione importante, non è un caso che una manifestazione contro la guerra imperialista in un momento come questo, così, una manifestazione così arrivi, arrivi oggi a Niscemi, proprio qui, perché? Perché da decenni si porta avanti una battaglia fondamentale contro la guerra, tutti i giorni, consapevoli che ci sono delle condizioni che portano alla guerra e quindi prima di tutto un grazie al movimento NoMuos, da parte del fronte della gioventù comunista per questa manifestazione che è fondamentale oggi. Ci troviamo a fronteggiare una tendenza alla guerra. A 30 anni dalla contro-rivoluzione dell'Unione Sovietica è crollata definitivamente la bugia della fine della storia. Ci hanno raccontato per 30 anni che la Nato e l'Unione Europea significavano pace e oggi con l'invasione dell'Ucraina questa bugia crolla ancora una volta dopo i bombardamenti di Belgrado. Ci hanno raccontato che un mondo capitalista avrebbe significato pace e progresso, ma invece la corsa ai profitti in tutto il mondo genera solamente un conflitto interimperialista per la spartizione delle risorse naturali, delle tratte commerciali, delle infrastrutture e dei mercati che è la base della guerra. È lì che sta la guerra. Questa è l'origine imperialista. Per questo è una guerra imperialista. Non è Putin che è un pazzo, ma è Putin che lancia l'invasione dell'Ucraina per difendere gli interessi del capitale russo e dello Stato russo. E dall'altra parte non c'è nessuna difesa della democrazia, perché da otto anni gli Stati Uniti hanno sostenuto i peggiori nazionalisti, hanno armato neonazisti in Ucraina per sostenere l'espansione a est della Nato. E questo lo pagano i popoli, questo lo pagano i lavoratori di tutti i paesi, dei paesi coinvolti dai lutti della guerra e dai popoli che vengono affamati per finanziare la guerra. Il governo Draghi ci sta portando in guerra, ci sta portando con i militari italiani stanziati, con le missioni in Nato nei paesi baltici, con un nuovo contingente mandato a rafforzare il presidio Nato al confine rumeno, con i finanziamenti di oltre 200 milioni, mandando le armi all'Ucraina, come se questo potesse portare alla pace. Draghi, il governo Draghi e il PD si sono messi nel metto e fanno la propaganda per la guerra dietro la bandiera della pace, seminando una mobilitazione nazionalista che vogliono sedimentare, così come la Germania che ricorre all'armamento dopo 80 anni, che vogliono sedimentare anche oltre questo conflitto, in una tendenza alla guerra generalizzata che rimarrà anche dopo, perché vogliono mobilitare i popoli a sostegno dell'opzione militare, anche nella risoluzione di contesti che non riescono più a gestire, con la diplomazia e il costo delle guerre lo paghiamo noi, lo paghiamo con un caro vita che oltre a vedere un PNRR, le politiche del governo che vanno solo e unicamente a finanziare la grande impresa in Italia, facendo pagare i costi della crisi ai lavoratori, peggiora per la guerra. Lo vediamo perché le basi della Nato, le basi statunitense in Italia sono basi di morte, sono basi di morte perché hanno consentito per decenni bombardamenti nel Medio Oriente, nel Mediterraneo, questo è quello a cui servono e sono basi di morte perché ci espongono tutti, col fatto che ci sono i missili nucleari americani puntati verso la Russia, alle ritorzioni nucleari. E allora contro tutto questo dobbiamo dare una parola d'ordine molto importante, che lottiamo contro la guerra imperialista, ma lottiamo anche contro la pace imperialista, contro la pace armata che fanno tutti i giorni con i finanziamenti militari anche quando non ci sono le guerre. E dobbiamo lottare contro la Nato, per l'uscita dalla Nato, per la chiusura di tutte le basi in Italia e legare questa lotta alla lotta contro il sistema che genera la guerra, che è il capitalismo, perché le guerre le fanno per gli interessi degli stessi monopoli, che ci sfruttano tutti i giorni, che ci fanno vivere da disoccupati o da precari, dovendo pensare chiaramente ad arrivare alla fine del mese, ma alla fine di ciascuna giornata, che ci ammazzano tutti i giorni, 1.400 morti sul lavoro ogni anno in Italia, che portano lo Stato a portare la stessa repressione contro i movimenti contro le basi militari in Sardegna, contro il movimento NoMuos, contro il movimento NoTav, contro le lotte sociali dei disoccupati organizzati a Napoli, contro i lavoratori che picchettano i magazzini e le fabbriche o che le occupano contro i licenziamenti. Ebbene, intensifichiamo questa lotta, intensifichiamo la lotta contro la guerra imperialista, ma dal nostro punto cercheremo di portare questo impegno ancora tutti i giorni, nelle scuole, nelle facoltà, nei luoghi di lavoro, nei quartieri popolari, per far crescere questo movimento in tutti gli impegni che ci saranno da qui in avanti. Avanti, NoMuos, fino alla vittoria!